Sta tenendo banco in questi ultimi giorni, in questi ultimi settimani, la situazione relativa ai parcheggi a pagamento. C'era stata una raccolta firme fatta da parte dei commercianti della zona nord di Roseto degli Abruzzi. Voi avete fatto un incontro, avete avuto un incontro con parte di questi commercianti. Il riserva un po' per vedere, per chiarire un po' la situazione. Sì, è stato un momento costruttivo, come avevano richiesto in una lettera firmata da tanti commercianti rosetani. Avevo dato disponibilità, chiedendo anche di condividere quella che era una mia risposta, che in questi giorni sta arrivando a tutti i firmatari. Risposta che dimostra un'apertura, una disponibilità al confronto, ma anche a migliorare quello che è un servizio. Che avevamo annunciato, come ho ribadito ieri già in approvazione del bilancio, che avevamo in qualche modo cercato di condividere, ma poi la decisione non è stata mai ribaltata sui commercianti, come magari qualcuno di loro aveva interpretato, ma è sempre una decisione della maggioranza. E il motivo, l'abbiamo ribadito, la migliorabilità dei parcheggi a Roseto, che a fronte di parcheggi gratuiti che stiamo cercando di implementare, l'ultimo è quello di Catarra, ho quasi 100 posti, quello di Piazza d'Annunzio e altri, ma a fronte di questo garantire una rotazione con i parcheggi a pagamento nella zona commerciale centrale della città, credo che si sta raggiungendo questo fine. Alcune migliorie proposte da loro, ma anche da Sorose, che ci aveva incontrato nelle settimane precedenti, le stiamo valutando, stiamo cercando di portarle avanti, e abbiamo garantito reciprocamente un confronto, una modalità di incontro che da ora in poi sarà sicuramente più proficua. Questo è lo spirito, questa è la volontà, le strumentalizzazioni, non dei commercianti, ma fatte da una parte della minoranza che ha cercato di calcare la mano, facendo credere, per esempio, che stavamo noi istituendo i parcheggi a pagamento, e che abbiamo ribadito che i parcheggi a pagamento esistono da qualche anno, noi abbiamo solo implementato per una motivazione sulla statale quelli che prima erano a disco orario, ma di certo abbiamo ascoltato quelle che sono le loro istanze, le preoccupazioni, e lavoreremo per migliorare.